Prima di iniziare, vorremmo fare una piccola premessa per spiegarvi come saranno impostati i video per rispettare la nuova policy della B-Move. Per chi non lo sapesse, la B-Move ha cambiato la propria politica riguardo ai videogameplay e non. Per quanto riguarda Vita di Coppia, infatti, non è più possibile pubblicare gameplay, far vedere illustrazioni e commentare eventi salenti della trama in alcun modo. Sono tuttavia possibili dei videocommenti dove si parla, in modo generale, di quanto accade negli episodi. Per poter parlare di questi in maggior dettaglio, vi aspettiamo sul nostro server Discord, dove c'è possibile condividere più spoiler e informazioni, come le illustrazioni, materiale e trama. Vi lasciamo il link in descrizione. Quindi, nel seguente video, noi condivideremo con voi la nostra opinione riguardo all'episodio, rimanendo entro i confini della policy. E ora, torniamo a noi! Benvenuti dolcetti e passanti, io sono Air, io sono Kel e queste sono le Herkel Reaction. È uscito finalmente Vita di Coppia e noi siamo qua per commentare quello che possiamo. Dolce Flirt, Vita di Coppia, episodio 1, arte e amore. Sono passati quattro anni della fine dell'università e sono tre anni che conviviamo assieme all'amore della nostra vita, per quanto sia sempre poco chiaro capire queste cose da come gli episodi sono scritti. In questi anni abbiamo completato i nostri tirocini, per poi concludere che lavorare al Cosibia non era tanto male. Quindi che facciamo? Lo compriamo, ovviamente, e lo trasformiamo in un bar-galleria. Che io non so voi, ma io non ho mai visto un bar-galleria. Che cacchio è un bar-galleria, esattamente? Nel mentre, anche i nostri Flirt hanno perseguito le loro carriere lavorative. Priya è sempre più vicina a diventare una delle migliori avvocatessi della regione, se non dello Stato. Yun si occupa di gestire i social dei Crowstorm, del nostro bar e di qualche altro cliente che capita ogni tanto. Nathaniel è diventato un ispettore di polizia in tre anni, perché lui è un genio e può. Cassia si è finalmente trasferito al parco, terza panchina a destra dello stagno. Ryan ha lasciato la cattedra di professore per seguire la sua vera vocazione, lo spogliarello. Ovviamente stiamo scherzando, Ryan insegna ancora all'università Anteros. Cosa non siamo sicure di volerlo sapere. Ma probabilmente storia di come l'uomo non sappia usare il pollice opponibile per abbottonarsi le camicie. Bene, ora commentiamo gli outfit. Partiamo dalla tenuta sulla sinistra. Green is chic, ovvero quella verde. Ma a me devo dire che non dispiace come tenuta. È un po' particolare e apprezzo il verde. È un verde bello, finalmente. Odio le scarpe. Le scarpe mi sanno di vecchia. Non so perché, mi dà l'impressione di essere delle scarpe di, non so, vent'anni fa. E un'altra cosa che non mi piace è il fatto che è troppo scollata, come al solito. Cioè, ma una maglietta normale lì sotto, mai, eh. E i pantaloni hanno una forma che non è brutta, ma è molto strana. Lì, secondo me, a seconda di come gli abbini, potrebbero risultare molto belli oppure no. Io sono d'accordo su tutto. Le scarpe non mi fanno così schifo, però riconosco che sono molto particolari. Magari di un altro colore sembrerebbero un po' meno da vecchia, come dici tu. Oltre ad essere un bel verde, finalmente. Hanno fatto una combinazione di colori che ci sta, comunque, alla fine. E anche le altre colorazioni sono molto carine. E i pantaloni, io non pensavo, ma anche solo neri. Sono riuscita ad appinarli molto bene, mi piacciono. Quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa tenuta, se non fosse per il body sotto che è indegno. Cioè, non si può, neanche un costume da bagno. Cioè, la seconda tenuta si chiama Retro Lover. In realtà, di tutta la tenuta in sé, allora, la cosa che non mi piace in assoluto è la borsa, ma io odio i cuori, quindi di conseguenza, cioè, la borsa mi fa schifo e basta. Le scarpe sono indecisa, perché sono carine, però non mi convincono. Invece del vestito, mi piace tantissimo la parte sotto. La parte sopra, boh, anche lì, non mi convince. Cioè, qualcosa tipo che forse è nella forma del top. Non lo so, mi dà un po'... Gnah, non lo so. Sì, io la stessa cosa, nel senso, a me piace come tenuta. Vabbè, a parte la borsetta, cioè, mi piace molto. Però sì, non è il mio stile, quindi non... Però è fatta bene, a me piace come è fatta. Passiamo alla terza tenuta. Freedom, ovvero quella con la maglietta scostumata, strana. Io Freedom lo associerei proprio alla maglietta, per il fatto che io, la prima volta che l'ho vista, essendo la maglietta color carne, pensavo fosse nuda. E ho detto, aspetta un attimo, che cosa sto guardando? Perché, allora, io mi chiedo, quando hanno disegnato questa tenuta, cosa stavano pensando per mettere due cuori e soprattutto quelle lignette, lì sotto? Ma, eh, l'idea, nel senso... Allora, partendo dal presupposto che a me la maglietta minimamente non piace, cioè, proprio, beh. Però capisco che sia, tipo, un po' di quelle magliette meme. Potrebbe essere carina se la prendi come un prendersi un po' in giro. Tipo, che lei, tipo, sa di avere un seno prominente, tipo, si prende in giro da sola con questa maglietta. Oppure sempre un po' per, tipo, sdoganare il fatto che le donne non possano, tipo, mostrare certe cose in giro e gli uomini, sì. Per il resto, i pantaloncini e il bracciale mi piacciono molto. Anche gli orecchini, per quanto facciano sempre gli orecchini che non si vedono. Però, se uno trova il giusto contrasto con i capelli dietro, forse riesci anche a farli vedere. E poi, le scarpe, io non le ho capite. Perché sono belle per fare un cosplay dei Joker, probabilmente. Ma non ho capito cosa c'entrano con il resto della tenuta. Cioè, io ci avrei visto un bellissimo paio di All Star, scarpette a ginnastica normali. Eh, ma, che sa, va al lavoro, non puoi indossare le All Star. Eh, ma sembra il pigiama sopra. Poi, passiamo al regalo della zia. Ah, questo io, cosa c'è da dire? È spettacolare. A me mi piace da matti. Mi ricorda tantissimo qualcosa che potrebbero indossare in un video del K-pop, una cosa del genere. E poi, proprio, è proprio bella. La zia ogni tanto fa questi regali mirati e belli. Poi, altre volte, impazzisce e ci regala una pianta. No, io sono d'accordo, è davvero bella, spettacolare, non me l'aspettavo. Infatti, ero tipo... Ecco, mi ricorda un po' Chani. A me piace lo sire di Chani, quindi ben venga, cioè. Bene, ora passiamo alla sinossi dell'episodio 1. La tua relazione amorosa sta andando alla grande e dal Cozy Beer si prepara un grande evento. La mostra dei Crowstorm è molto attesa. Fortunatamente ci sei tu a organizzare tutto. Adesso che hai comprato il Cozy Beer l'hai trasformato in bar-galleria di tendenza. Il fatto che siamo noi ad organizzare tutto a me mi preoccupa, perché se uno pensa al liceo le cose vanno male. Comunque, per, diciamo, questo è quello che possiamo fornirvi della trama con precisione. E basta. Sì, la B-move ha dato il meglio di sé in queste cose. Però si può commentare tutto il resto. Quindi, parliamo un po' a livello generale di come ci è sembrato l'episodio. Allora, io l'ho trovato un episodio veramente noioso. Cioè, nel senso che è un episodio comunque riassuntivo e quindi serve molto per le nuove giocatrici per capire un attimo il passato. Il problema è che, se per le nuove giocatrici può essere interessante, per le veterane è l'ennesimo riassunto. Ed è pesante, dopo un po'. Lo rende molto noioso. Per di più, hanno fatto una cosa che io ho ritenuto insensata. Cioè, più che altro non ho capito perché l'hanno voluta fare. È il fatto che hanno unito un episodio noioso per il fatto che fanno il riassunto a dei dialoghi deprimenti. Non c'è un solo personaggio senza un problema. E quindi, di conseguenza, tu passi da Eh sì, perché all'università è successo questo, quest'altro, ci conosciamo dal liceo, eccetera, eccetera. Poi arriva un personaggio, un vecchio amico, e la prima cosa che fanno è, eh sì, non va tanto bene. Punto. Cioè, principalmente sono questi i dialoghi. E io devo, ma perché? Cioè, almeno fammelo divertente il primo episodio. Mi aspettavo qualcosa con un po' più brio. Esatto, anch'io sono d'accordo. Diciamo che da un primo episodio non è quello che ti aspetti. Perché un primo episodio dovrebbe essere, ok, introduttivo, però ti dovrebbe, appunto, invogliare ad andare avanti. E, cioè, io non mi sento minimamente invogliata ad andare avanti. Quindi questa cosa anche a me mi ha lasciato molto delusa. Poi mi viene da dire anche che hanno voluto mettere diversa carne al fuoco perché si troveranno a dover gestire molte cose nell'arco di poco tempo e questo non promette per nulla bene. Perché come abbiamo già visto al liceo e all'università, bisogna prendersi il tempo per gestire le cose e non fare tutto troppo in fretta. E non capisco perché non l'abbiano ancora capito. Anche perché se vuoi trattare certe tematiche, devi trattarle bene. Non puoi trattarle a caso. Inoltre, è evidente che quando vogliono sanno mettere delle scene divertenti. Però, perché non sfruttarle meglio? Mettetene di più, insomma, se vuoi... Ok, capisco il drama, ci sta, mettiamole. È quello che manda avanti anche una storia. Però mettete anche qualcosa di divertente per conto bilanciare. Già, un passo avanti sarebbe stato presentarci tutti i personaggi in questo episodio, solo che al posto di far dire ai personaggi che hanno dei problemi, fargli dire qualcos'altro. Fa che i personaggi siano interessanti, non problematici. E poi dopo, nel secondo episodio, puoi già iniziare col dramma. Beh, invece, tornando a cose un po' più... Le cose carine dell'episodio... Esatto. Parliamo dei personaggi nuovi che ci sono stati presentati. Quali sono questi nuovi personaggi di vita di coppia? Allora, abbiamo Eric, il poliziotto che aveva aiutato Natta a uscire dal giro di droga e che ora è suo collega e che flirta pesantemente con lui, a quanto pare. Sì, è un po' inquietante questa cosa, però almeno ce l'hanno fatto vedere. Esatto. E soddisfa anche abbastanza le nostre aspettative, come aspetto. Esatto. Soprattutto perché noi, come lo sapete, lo scippiamo con il dottore barra infermiere dell'università, Raphael. Poi abbiamo Yael, che abbiamo potuto avere una preview nelle stories, che è una manager per artisti. Però sembra un personaggio interessante, è carina, divertente, non è male. Io devo dire che quando l'ho vista nelle stories, mi ero un po' preoccupata perché ho detto Dio, chi è questa? I capelli come Castiel? Oh my god. Invece mi è piaciuta molto. Sono rimasta molto soddisfatta. Poi abbiamo quello che è un essere abbastanza inutile e piattoloso, che è Steve, che oltre ad essere un adolescente, non so cos'altro dirvi. Eh, io lo definirei il rompiscatole. Oltre ai nuovi personaggi ne abbiamo anche di vecchi, ovviamente, perché non li abbiamo seppelliti ancora tutti. E abbiamo Nina, che a mio avviso è ironico che sia una delle poche rimaste per tutte e tre le stagioni. Però devo dire che mi piace il rapporto che sei un po' in star auto con la dolcetta. Diciamo che secondo me le dà quello sprint in più per dirigere al meglio il bar. Sì, questo mi piace. E mi piace che sembra che Nina abbia mantenuto un po' del suo carattere, ma al contempo sembra maturata. Esatto, sono d'accordo. L'unica cosa è che per quanto mi piace l'idea in sé dei suoi capelli, li ha disegnati malissimo. Poi abbiamo Alex, che è rimasto anche lui. Però siccome in vita di coppia è orrendo, lasciamo il vecchio sprite. Secondo me o ha sbagliato un lavaggio in lavatrice, oppure è cieco, non lo so. Non so cosa gli stia succedendo, ma ho paura. Poi abbiamo Chani, che è sempre bellissima e fighissima. Sì, per di più Chani ce l'avevano anche mostrata subito nelle stories di Instagram e ha uno stile, quella donna che veramente è rosa, scansati, licenziati, fa quel che volete, ma quella donna lì ha stile. Ora, vogliamo commentare che Clementina ci ha venduto il bar e se n'è andata con Patrick? Io devo ammettere che quando pensa Clementina e Patrick insieme mi viene da sorridere. Sono due esseri veramente assurdi, ma completamente assurdi. E non lo so, mi fanno ridere, perché se me li immagino nelle azioni quotidiane, perché c'è Clementina, generale russo a nostro parere, e il putto. Se ci pensi, anche il putto era abbastanza tosto da digerire l'università. Quindi in realtà, come personaggi, potrebbero essere più sensati assieme di quel che sembra. Sicuramente sembrano più sensati di molte altre cose. Ecco, una cosa che invece mi ha si fatto storcere il naso è il fatto che, soprattutto nel primo episodio, ci mostra il rapporto tra Clementina e la dolcetta come se fosse un rapporto profondo, di fiducia. Solo che, se uno pensa al percorso dell'università, Clementina ha mai mostrato, tranne in alcune frasi dell'ultimo episodio, questo rapporto con noi? Sì, questo sono d'accordo. Soprattutto, ma più tanto che Clementina, che alla fine magari può essere visto come un personaggio burbero, che non mostra quando tiene una persona, eccetera, eccetera, è la dolcetta che proprio lei, quando si è licenziata, era tipo, sì, finalmente mi sono licenziata. Cioè, è questo che a me mi ha lasciato molto, nè. Cioè, mi sarebbe piaciuto vedere come le è venute in mente, appunto, di aprire questo bar galleria e di dire, ma sì, alla fine lavorare in un bar non mi dispiaceva. Ora passiamo al clou, quello per cui voi tutti siete qui. Parliamo dei flirt. Allora, in generale, però, come abbiamo già detto, tutti i personaggi sembrano avere dei problemi e quindi anche i flirt hanno dei problemi. Mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è questa. Sì, esatto, i dialoghi con i flirt all'inizio dell'episodio sono anche abbastanza tranquilli, cioè, all'inizio sono un po' similari. Più che altro, il dialogo della mattina serve solo a anticipare il fatto che la sera li vediamo. Devo dire però che la conversazione della mattina mi è piaciuta abbastanza, perché ha dimostrato un pochino anche come è strutturata la coppia, tipo Cassia ha di nuovo senso dell'umorismo, incredibilmente. Anche con Natania c'è stato uno scambio di battute veramente divertente, mentre per Pri e Yun è stato un pochino più Pollage, però alla fine ci stavano anche loro. Erano carini come dialoghi, alcuni molto più di altri, però ci stavano. Mentre invece, quando torniamo a casa la sera, cioè, i dialoghi sono stati abbastanza strani. Di base, tutti avevano, come tutti gli altri personaggi, proprio un fondo di malinconia, tristezza, insoddisfazione. A nessuno andava bene qualcosa, comunque. Anzi, il gioco ha testualmente scritto e durante la cena parliamo delle sventure della settimana. Io mi chiedo, ma scusami, ok che c'è qualcosa che ti può essere andato male, ma parlare anche di un altro argomento un po' più carino? No, proprio il gioco stesso che dice che parliamo di sventure. No, infatti in tutti i Root ci hanno fatto più o meno vedere, penso, quello che sarà un po' il momento di crisi nella coppia. Però, appunto, noi volevamo vedere la scena di quotidianità carina e coccolosa, perché è per quello per cui stiamo giocando, e invece ci ritroviamo a questa atmosfera di drama che pervade tutto l'episodio, che, cioè, tu sei tipo lì, ma io non volevo la scena carina e coccolosa, perché mi dovete parlare di questo proprio adesso? Comunque, in compenso... Ci sono dei lati positivi, perché, diciamo, le conversazioni un po' più brutte sono con Priya e Ryan. Quella con Nathaniel è un po' così così, perché, diciamo che anche lì da un lato non è bellissima, però sono riuscite a mettere qualche cosina che la rende un po' più carina. E poi però anche lì sono usciti con il solito problema della B-Move e che non sa come scorre il tempo nella vita reale. E anche lì succede che Nathaniel, in quei 4-3 anni che sono passati, è riuscito a fare quello che nella vita reale le persone fanno in 10. Tra l'altro, attestato dal gioco stesso, cioè proprio dicono, eh, ce ne ha messi 3 invece che 10. Sempre queste cose qui, la B-Move da quel lato lì mi dispiace, non ce la possono fare. Mentre invece, Yun, la conversazione è stata, diciamo, l'ho apprezzata perché è stata la più realistica. Gli argomenti erano bilanciati, belli e brutti, soprattutto era proprio una conversazione che uno potrebbe fare dopo che convivi 3 anni e la tua vita è già avviata. Niente di esaltante, però è bello proprio perché è realistica. Infine, vi ho lasciato per ultimo il migliore di tutti, Castiel. A me mi è molto piaciuto Castiel perché hanno riservato a lui dialoghi più divertenti. Sì, infatti, incredibilmente, il senso dell'umorismo di Castiel è ricomparso perché mentre al liceo, se avevi lo vomito alto, era molto sarcastico, ironico, e all'università questa cosa era stata persa, era tutto serio, compito, stoico, eh. Adesso di nuovo è riapparso il senso dell'umorismo e si può vedere già dalla chiamata della mattina, infatti è una cosa che ho addorato. E una cosa che volevo sottolineare, questo è anche l'unico dialogo in cui proprio il gioco stesso non dice che mentre cenavano hanno parlato delle sventure della settimana. Ma infatti, quindi, per tirarle somme, alla fine è stato un episodio che è in parte noioso per chi ha già giocato tutto quello prima o che almeno sa di tutta la storia prima e che ha posto in essere delle premesse che ti fanno pensare che le prossimi episodi, ma in generale tutta la stagione, sarà un enorme risolvere problemi a destra e a sinistra, ma di tutti i personaggi, cioè non se ne scampa nessuno proprio. E questo non mi è piaciuto tanto, cioè avrei preferito vedere più un attimo prima la vita di coppia e poi i problemi. Abbiamo sudato 20 episodi dell'università e ancora non ce la siamo meritata. Beh, commentiamo le illustrazioni anche se non ve le possiamo far vedere. Sì, infatti, quindi usate l'immaginazione o c'è il nostro canale Discord, ve lo consiglio. Per le illustrazioni io le trovate carine, ma niente di che. Alcune hanno dei difetti, capelli dalle strane texture oppure strane facce, un po' strane, però altre mi sono piaciute tanto, anche se quelle che mi sono piaciute più sono quelle di Nat e Yoon. Sì, mi sono piaciute molto, anche se effettivamente ci sono delle pecche. E ringrazio chiunque sia stato l'illustratore che ha nascosto la maglietta della tenuta di Priya e Nathaniel. Già vedere il seno della dolcetta nell'illustrazione di Ryan mi abbassa il punteggio dell'illustrazione di non so quanti punti. Quella di Cassian mi piace molto, anche se c'è qualcosa che non va nel suo volto, nei suoi capelli, però l'idea in sé mi piace molto. E la mia preferita però penso sia quella di Yoon perché è veramente troppo divertente. Poi la scena dietro mi è piaciuta tanto, devo dire che penso sia quella la mia preferita. Ma un'altra cosa positiva di questo episodio è che ci fa vedere subito tutti gli appartamenti e mi sono piaciuti molto. Rispecchiano molto le persone che ci abitano, sono molto carini e soprattutto quelli nuovi diciamo, quindi di Yoon, Nat e Priya, hanno tutti veramente degli ambienti che mi sono piaciuti veramente tanto. Io sono d'accordo, penso che il mio preferito in assoluto sia quello di Priya, mi piace proprio come è fatto, i colori, come è tutto organizzato, mi piace veramente tanto. Quello di Nathaniel mi fa un po' ridere per la presenza sovravvontante di piante. Tipo, ok Nathaniel capisco che hai scoperto di avere una passione per il basilico, ma devi sottolineare così tanto il tuo pollice verde, cioè non ne hai avuto abbastanza. Poi c'è il bagno con le vetrate sulla camera. Quello è strano, sì c'è il bagno nell'appartamento di Nat che è tipo, hanno fatto camera e bagno open space, l'unico problema che penso è che l'unica cosa che non puoi fare è open space in una casa è il cesso, cioè non c'è la porta e la doccia è tutta vetrata e da sul letto. Sì, ma soprattutto quando devi fare la cacca, quanto puzza scusatemi, poi tutto è nella camera, che cos'è? Io giuro che non l'ho capita questa cosa, non l'ho capita. Invece a me quello che mi è piaciuto di più è quello di Yun, per gli spazi, cioè la cucina, la sala, mi sono piaciuti, tutti molto luminosi. Sì, è molto bello, è piaciuto anche a me e mi piace anche il fatto che sia su due piani rispetto agli altri. Per quanto riguarda Castile e Ryan, se andate a vivere in quello che era il loro vecchio appartamento gli abbiamo aggiunto un tocco tutto nostro, che per quanto mi piaccia mi scoccia che sia questo rosa, anche se devo dire che comunque i colori ci stanno, tutto fatto molto bene, tutti sempre molto belli. Invece quello di Ryan forse il salone ho apprezzato molto i colori che ci sono adesso, perché prima era veramente un verde marcio indegno, mi dispiace Ryan, ma era troppo sul tuo colorito, non si poteva vedere. Una cosa che invece a me ha divertito è come hanno sottolineato il nostro carattere di persone disordinate, che in ogni camera c'è un nostro paio di scarpe abbandonate in giro. Esatto, no no, questo è veramente carino, così come abbiano messo sputacchi ovunque, cioè non ci credevo però è veramente carina come cosa, comunque che anche la dolcetta se lo sia portata dietro dopo tutti questi anni. Ora, che abbiamo commentato tutto quanto, chiudiamo in bellezza con qualche faun fact. Tanto per cominciare, Nathaniel soffre di soletico al collo. Per tutte le fan di Nathaniel vi rivelo questa informazione. Pancake, il cane di Castle e della dolcetta, è enorme. Ma veramente, è cresciuto, è una mucca, non è più un cane. Mentre Blanche e la gatta di Nathaniel è bellissima. Infine, la teoria più bella che è uscita da questo primo episodio, che abbiamo visto bazzicare su internet, è che un certo artista, che si chiama Aster, potrebbe essere Violet. Io spero veramente che sia così, perché Violet, insieme ai florte che ci hanno ucciso nella prima stagione, è uno dei personaggi che io avrei voluto rivedere tantissimo. Vi lasciamo, infine, queste nostre interpretazioni delle illustrazioni e diteci cosa ne pensate. Sì, visto che la B-Move non ci fa mostrarle loro, però noi possiamo rienterpretarle nel nostro bellissimo modo. Diteci, come al solito, cosa ne avete pensato dell'episodio, se l'avete giocato, o dei nostri commenti, se ci avete capito qualcosa. Ricordatevi di entrare nel server Discord, che è linkato in descrizione. Esatto. E venite a fare due chiacchiere con noi in più nel dettaglio. Seguiteci su Instagram, dove come sempre, ogni tanto pubblichiamo qualche info e qualche giochino. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di suonare la campanella degli Stalker. E per il resto è tutto. Buonanotte! Dolcette e passanti! Dolcette e passanti!